E' purtroppo una realtà sempre presente che fino ad oggi non si è riusciti a sconfiggere del tutto. Si tratta del business milionario del traffico di cuccioli. Già in passato anche il nostro territorio, essendo zona di confine, è stato interessato da blitz che hanno portato all'evidenza traffici di animali come cani e cavalli effettuati in maniera non idonea da far prefigurare veri e propri maltrattamenti. Ora parte la nuova campagna Eurogroup for Animals contro il traffico di animali d'affezione. La LAV, partner italiano, sollecita a firmare la petizione per spingere l'Europa ad adottare regole comuni e sistemi univoci di registrazione e identificazione degli animali. L'Italia è purtroppo uno dei paesi d'arrivo di questi traffici, con animali provenienti soprattutto dall'est europeo. Centinaia di migliaia di animali d'affezione, circa 300.000 secondo le stime ufficiali, ogni anno vengono illegalmente commercializzati attraverso l'Europa. Questi cuccioli vedono la luce in situazioni disumane, stipati in furgoni e bagagliai e trasportati per distanze enormi. Il problema può essere risolto definitivamente solo con un sistema di identificazione e registrazione comuni tra tutti gli stati membri dell'Unione.